La terza giornata del campionato di Serie A ha proposto subito una sorpresa clamorosa e che avrà effetti sul turno in corso. La Lazio centra l'impresa di battere una delle tre capoliste del torneo, l'Inter per 3-1, conquistando punti pesanti. Apre le marcature Felipe Anderson nel primo tempo, poi nella ripresa il pareggio nera-azzurro di Lautaro Martinez, ma Luisa Alberto Prima e Pedro firmano il sorpasso e la vittoria bianco-celeste. Il Monza proprio non decolla. La squadra di Berlusconi e Galliani perde per la terza volta, seconda casalinga, contro l'Udinese che si rilancia in chiave salvezza. I locali avanti con Colpani, poi l'1-2 dei Reulani, fra primo e secondo tempo, con Beto 1-1 e poi il sorpasso con Udogie 1-2. Oggi attesa per Juve-Rum, occasione giusta per Mourinho di tentare il sorpasso contro i bianconeri. Milan-Bologna, rossoneri al riscatto dopo il pareggio a Bergamo contro l'Atalanta. Completa il turno del sabato, le sfide salvezza, il Crevonese-Torino e Svezia-Sassuolo.